Io ringrazio questa Accademia dell'opportunità di ricordare qui Pia Vivarelli. Poi mi fa molto piacere farlo, mi fa piacere vedere Fiorello e salutarlo, perché mi riporta un'immagine viva di Pia. Quanto a Pia ho scritto pochissime pagine per ricordarla e se volete ve le leggo. Io accolgo volentieri l'invito a parlare di Pia Vivarelli, con piacere e anche con una certa emozione. Infatti per me parlare di Pia è come parlare di una parente. Da quando, tanto tempo fa, con mia sorella Angelica ci recamo ad Argan per avere da lui un consiglio su chi avrebbe potuto occuparsi del catalogo Savinio, allora ancora da compilare, Argan ci segnalò subito Pia. È cominciato allora un rapporto stretto con Pia Vivarelli. Lei, con la sua seria e attenta professionalità, unita a una vivacità e curiosità che la distinguevano come studiosa, è entrata in quel mondo che era allora, non dirò sconosciuto, perché la nuova attenzione all'opera di Savinio era già incominciata, ma non ancora perfettamente studiato. Pia si è inoltrata in quel mondo con l'entusiasmo che l'ha portata a essere presto la maggiore esperta di Savinio pittore. E non solo pittore, perché, e qui cito una sentenza di mio padre, diceva di essere una centrale creativa e che quando si possiedono più linguaggi è immorale e stupido confinarsi in uno solo. Così Pia, nelle sue schede, nel suo lavoro, ha unito informazioni di ogni tipo, estetico, iconografico, biografico e letterario. Dato che l'oggetto del suo studio e del suo infaticabile lavoro era il mio genitore, presto ho cominciato a considerare Pia quasi come una parente. Qui cade un altro ricordo o citazione paterna. A chi aveva comprato il suo ritratto coniugale, scrisse, adesso che lei è il mio quadro, siamo diventati parenti. Il catalogo Savinio dell'Electa, chiamato ormai semplicemente Vivarelli, è un canone negli studi saviniani. Dovrebbe essere approntata una ristampa con le opere che Pia ha scovato, con il suo fiuto di studiosa e insieme di segugio. Un'opera per tutte, il matrimonio del Gallo, quadro di insolite grandi dimensioni che giaceva in qualche museo periferico. E poi posso dire altre cose che mi uniscono a Pia. Ricordo la sua allegria e vivacità, la risata e il numero incredibile di sigarette che punteggiavano la sua conversazione. Io ero allora un altrettanto assiduo tabaggista. Scherzavamo su questo, sul vizio o piacere che ci univa. Poi io ho smesso. Tante cose sono cambiate nella mia vita, tante ne ho dimenticate, ma il ricordo di Pia mi è presente, altrettanto più vivace come era lei. Grazie a Ruggero Savinio per le parole di grande commozione che credo sia la stessa che abbia colpito voi nel vedere restituita in questa dimensione che definivo domestica la Biblioteca di Pia Vivarelli. Prima di passare la parola a Giuliana Zagra del Servizio Nazionale delle Biblioteche, della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. Voglio ricordare come l'acquisizione di questa biblioteca in qualche modo appartenga allo stesso animo dell'Accademia Nazionale di San Luca. Ricordo che all'interno dell'Accademia Nazionale di San Luca è ospitata la Biblioteca Sarti, parzialmente la Biblioteca di Ucanova. Quindi c'è una predisposizione alla Biblioteca a farsi costellazione di possibili altre biblioteche. E soprattutto per quanto riguarda questo del Novecento mi sembra che sia un risultato molto importante. Grazie.